L'associazione Namaste International Community rappresenta un faro di speranza e positività nel panorama sociale odierno. Nata il 18 febbraio 2016 con l'ambizioso obiettivo di diffondere conoscenza, altruismo, felicità e scambio di saperi, l'associazione ha costruito una solida rete di persone unite da veri ideali etici, altruistici e di condivisione. I valori fondanti di Namaste Amore per la natura, l'ambiente e ogni essere vivente Cooperazione Altruismo Rispetto per l'ambiente Riciclo creativo Bricolage Fotovoltaico fai da te Consapevolezza energetica Gestione olistica delle energie, mente, corpo, ambiente e spirito I progetti di Namaste Progetto 21 Progetto Scuola del fai da te Progetto fotovoltaico fai da te Come unirsi a Namaste Collabora con noi Sostienici a distanza Proponi i tuoi progetti Diventa socio Fai il social promoter Crea dei gruppi nella tua città Metti in campo le tue abilità Iscriviti al sito web di Namaste Perché Namaste è importante Namaste è un esempio di come il cambiamento positivo sia possibile Namaste è una community di vera fratellanza per un futuro migliore La quota associativa è di soli 10 euro annuali Fai la differenza, unisciti a Namaste Per maggiori informazioni Sito web namastecommunity.it Insieme, possiamo creare un mondo migliore Comincia adesso Grazie a tutti